Alberto Bertolini, vice sindaco di Riva del Garda, come si pone questo accordo, questo deco, questo nuovo marchio nel contesto attuale in cui il governo italiano ha un accordo in ballo con gli Stati Uniti per cui verrebbe eliminata completamente la tracciabilità delle carni importate? Voi andate decisamente in controtendenza? Ma denominazione comunale vuol dire certificare la storia, la tradizione e i valori di un prodotto alimentare ma anche di una festa, di un evento, di un piatto tipico e quindi sì andiamo nella direzione al contrario, andiamo proprio nella direzione di fare emergere quelli che sono i prodotti veri di un territorio, quelli che rappresentano la cultura, la storia, il lavoro, il lavoro di aziende che adesso hanno riscoperto produzioni, modalità di conservazione della carne come la carne salada che sono la storia del nostro territorio, in questo senso sì siamo in controtendenza. Chiara Maino, presidente della Copa Alto Garda, quant'è importante questa iniziativa? Noi è già da qualche anno che Copa Alto Garda si sta impegnando attraverso il marchio Copa e attraverso anche la produzione delle nostre carni alla qualità, la solubilità insomma dei nostri prodotti. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, insomma vi devo dire che è un'idea che è partita dal nostro responsabile delle carni di Copa Alto Garda, Bruno Stanga, perché crediamo fermamente che le nostre sono produzioni e non è pura vendita del prodotto carne. C'è tutta una lavorazione, c'è tutto un rapporto di qualità del prodotto e quindi ci abbiamo creduto fermamente. Bruno Stanga, quali sono i produttori e quali sono le caratteristiche di questa carne? Allora, gli altri produttori, assieme a Copa Alto Garda, che rappresento io come responsabile delle carni, sono Pregis, sono Salumificio Fiore, sono Salumificio Cheese della Val di Ledro, poi c'è l'agraria, diciamo che rappresentata da Bertoldi, l'agraria di Riva del Garda. Il prodotto, diciamo che per quanto riguarda Copa Alto Garda, finalmente dopo un lungo lavoro di due anni siamo arrivati a questo disciplinare che specifica come viene fatto il prodotto, come deve essere lavorato il prodotto nel rispetto di determinati aromi. Abbiamo sempre cercato di fare il prodotto carne salata, carne salata richiamando il più possibile le vecchie origini, perché la carne salata, sappiamo tutti, la storia è questa, la carne salata parte da Colonia di Tenno, da Varignano, poi a Tenno, negli anni che furono. Niente, naturale, noi abbiamo sempre puntato a farla naturale e senza nessun conservante. Marco Benedetti, Presidente di Ingarda, qual è la valenza turistica che il Marco Deco può avere per quanto riguarda in particolare la carne salata? E non solo, insomma i prodotti forse da rivalutare nel nostro territorio sono sicuramente tanti, che i comuni siano arrivati a credere in una denominazione comunale, io penso che sia tutto di positivo. Non abbiamo mai pensato di essere un territorio che forse crea una motivazione di vacanza per l'offerta gastronomica che ha, però l'offerta gastronomica è un'offerta indispensabile per far sì che uno ricordi una buona vacanza e se accanto a questo trova anche un acquisto importante da portarsi a casa, sicuramente il nostro territorio gli è più vicino e si fidelizza sicuramente.